Ringraziamenti e auguri del nostro bello, il Vescovo Mon Gerardo, benvenuti, benvenuti nella terra di San Tommaso. Tutta questa gente è vieta di raccogliere la gratinione. Saluto e ringrazio anche il nostro Vescovo che serve alle nostre necessità. Saluto e ringrazio i confraterni sacerdoti, i padri domenicani. Saluto e ringrazio il primo cittadino di Locasecca, il dottor Giorgio, il cuore tutti i sindaci di Collesa Magno, di Colo Felice, di Castruceno, che presenta a onorare questa festa di San Tommaso. Saluto e ringrazio anche l'associazione Circolo San Tommaso d'Alpino di Ponte. E quindi ecco che parlo con la vita di questo pellegrinaccio. Saluto i pentegrini della parroche di Santa Lucia di Colo Castruceno, di Colle San Magno. Saluto e ringrazio gli scout che da ieri, da oggi, sono venuti qua a celebrare questa festa di San Tommaso. Saluto e ringrazio tutti quanti voi che siete venuti a celebrare questa grandissima festa per il nostro concittadino di San Tommaso. Saluto e ringrazio il comitato festa che hanno preparato questi festeggiamenti in onore di San Tommaso. ringrazio tutti coloro che hanno dato e corrisposto al nostro appello per la Domo Florea, in modo particolare la musica che ha offerto la Domo per questa festa di San Tommaso. Noi preghiamo Dio per l'indecrezione di San Tommaso perché possiamo sempre più sali, essere sempre più sali della terra e l'unico del mondo. Buona giornata a tutti e buona festa di San Tommaso. Grazie. Grazie. Grazie.